E' chiaro, no? Cioè, è chiaro quindi che c'è una volontà ben precisa di utilizzare le masse per fare i giochi loro. Però adesso, prima di parlare della cambiata sociale, facciamo un attimo di sosta e partiamo, vediamo un attimo se qualcuno va a partire le domande. Perché altrimenti, magari se qualcuno ha dubbio qualcosa, non... Quindi se avete delle domande, magari poneteci a dubbio, così che poi andiamo avanti e partiamo la domanda. E' una cosa solamente di quantificazione. Sto leggendo un po' a pezzo un libro di Marco della Luna. E da quello che scrive lui... Marco della Luna ci ha litigato un mese fa, eh? Non chiedo, non chiedo, non chiedo... E' uno schiavi, eh? E' uno schiavi, sì. Lui dice che il mondo non è mai stato così ricco come adesso, perché è pieno di beni che dovrebbero essere quello che è il vero valore dei beni. Questo è vero, esatto, esatto. Ovviamente avremo un reddito dai 3.000 ai 5.000 euro a testa. No, di più. 60.000. 60.000 al mese? No, di più al mese, insomma. Allora, quindi 5.000 euro al mese è una cosa di più. Se non esistesse il signoraggio... No, 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 beh, poi sull'euro ha cambiato, ma evidentemente erano 2.000 euro. Che è il motivo per cui siamo qua. E ci sono 2.000 euro a distorsione della cambiata sociale. Cioè invece tutto il resto che ci rifrogano al signoraggio, a questi potentati internazionali, così grossomodo, tutto il resto che non viene dato... Difizio. Difizio. Allora, prima l'ho detto. Quando ho detto che con 600 miliardi di euro di liquidità si producono circa all'anno 1.500 miliardi, e poi questi non siano 600 miliardi perché lì ci sono i buoni... Cioè sono, diciamo, i titoli di vario genere per cui sono ripartiti in più anni. Diciamo insomma che con, forse attorno ai 400 miliardi, si producono 1.600. Quindi 4 volte l'emissione che viene messa nell'anno, più o meno. Quindi questi soldi sono una quantità enorme. Cioè, praticamente, è come se, ed è anche nella realtà, 1 lavora e 4 vivono. Perché è così? Cioè le persone attive, attive, diciamo, proprio lavorativamente, sono 1 su 4. 1 lavora e mantiene 4 persone. E lo stesso vale per qualunque altro concetto vogliamo esaminare. Cioè, quindi, quando tu produci, crei talmente tanta, diciamo, sinergia, che con quella sinergia puoi mantenere altri. Ecco perché, appunto, noi parliamo di reti di cittadinanza. Perché c'è questa formula, diciamo, sinergica, diciamo, contributiva. Un esempio, posso farlo? Certo. Un esempio era quello che poi generò la bolla dei suprani in America, che chi andava a indebitarsi per fare il mutuo di casa, vedeva poi il suo mutuo cartualizzato. Quindi, sul mutuo del singolo del Parduglia Pagano, perché questo ci ha reso, tutto riscopperò la bolla, però su quel mutuo si generavano dei titoli. Certo. Ma si creava anche lavoro. Si creava anche lavoro. Con lui si creava poi del valore, con cui qualcuno spiepulava e guadagnava, non facendo niente. Non facendo niente. Non lavorando, non comprato gasa. Questo è il grande segreto della grande finanza internazionale. Cioè, chi emette una valuta, con quella valuta crea, non solo quella valuta, ma la sinergia che si sviluppa a canela. E quindi permette poi... Quel sistema funzionava così. Tu andavi in banca, prendevi il mutuo, il tuo mutuo veniva al 95% cartualizzato, su quel mutuo venivano generati appunto delle azioni, chiamiamola delle obbligazioni. Queste obbligazioni a loro volta venivano assicurate, quindi si creavano dei titoli che siamo CDO e CDS. Da una parte c'erano le cartualizzazioni, da una parte c'erano i titoli assicurativi. La prossima moda che scopperà sarà che i titoli assicurativi... Ah, è il punto di pensione. ...devi swap. No, dei swap, attenzione. Il debito, allora, i greci hanno fallito. Sul titolo greco, sui titoli greci, sul debito greco, ci sono, sono stati emessi da alcune banche, le principali sono Goldman Sachs, che sta emettendo e vendendo, adesso spazzatura, ce l'ha detto, il nostro dirigente che si è dimesso, e l'AEA, che è un'assicurazione specializzata all'elementare, appunto, titoli assicurativi. Questi due saranno i prossimi che scopperanno. Perché? Perché la Grecia ha fatto di fatto un default. Ha dato volontariamente il 85% dei propri titoli con un ribasso del 75%, ma dovrà obbligare il 15% di chi possiede titoli greci a questo 75%. Quindi, di fatto, è un default. Il list ha detto è un default. Quindi, se viene riconosciuto il default, default vuol dire che è fallito. Se viene riconosciuto il fallimento della crescita, succede che questi swap, i CTS, devono essere pagati. E quindi ci sono, hanno fatto un conto, ma secondo me è molto plato, dicono 3,5 miliardi di dollari in titoli default per assicurare il default. Non è vero, non è vero. Si parla di 70 miliardi. Allora, 70 miliardi generano il fallimento di una banca. E quindi si aspetta adesso che qualcuno valisca. E infatti, Goddard, ma si sta venendo. Le banche tedesche? Sì, questa è la realtà. Le banche tedesche c'hanno circa 400 miliardi di titoli di Stato dei vari Stati che è in difficoltà. C'è pure da dire, in una parte di tutta questa carina di truffa che sta a dire, io parlo come tecnico, io sono stato dovuto vedere le banche tedesche, le banche tedesche, le banche tedesche, soltanto la scorsa dinamica, stando in fondo di pensione. Cioè, pochi sanno. Assolutamente. Pochi sanno. Sì, sì, sì. Nel 98 ci furono i cosiddetti bot people che furono tutti quelli che uscirono fuori dal mercato del titolo a reddito fisso per buttarsi nella corsa. E infatti, tu comprai un'azione facendo così, boom, compro questa. Tu mangi, mi mangiato 10%. e per esempio, hanno imboccato tutti. Allora, che succede? Che praticamente, tutti questi grandi investitori poi hanno generato la necessità da parte delle banche di creare dei prodotti strutturati, che hai citato adesso, anche di... ma l'atrocità in tutto questo. E sono una fede di tutti quanti delle aziende di condivisione. Ma noi che oggi stiamo forzando il nostro tipo, l'atrocità in tutto questo. Lei sta parlando di un qualcosa che è un investimento sul titolo nazionale. Lei ha un'impresa e io dico che la Apple oggi vale 500, per me vale 600, quindi io compro quelle azioni perché per me sono sotto lontano. Poi se scoppia la burla o scoppia, io sto investendo su un'azienda che produce il telefonino, produce i pad, ok? Qui stiamo parlando di speculazione, stiamo parlando di zacco, stiamo parlando di niente, stiamo parlando di una scommessa. Stiamo dicendo io ho incognato questo pezzo di carta scommettendo che tu fai nero. Questo non è nero. Perché poi ti sanno che la maggior parte della società non è nero. E quindi lo Stato italiano negli anni 90, come diceva lei, ha investito in titoli collaterali con Morgan Stanley, la quale ovviamente adesso ha chiesto di solito allo Stato dicendo chiudiamo queste posizioni e il nostro 6,5 miliardi 3,5 no, 6,5 3,5 usciti direttamente dall'aumento dell'Ira. Quindi Monti a generale ha dato 3,5 ma questo è documentato sui giornali ma lo avevo detto 3,5 però quindi dati direttamente da un Stato italiano sono 3,5 poi ce ne sono 4 di impegno e di unipedio però 3,5 dati con i 7 derivanti dall'aumento dell'Ira. vediamo da di unipedio